Il Tar ha bocciato il ricorso presentato dal comune di Castellabate sull'ospedale di Agropoli relativo al piano regionale di programmazione 2018 della rete ospedaliera. Costabile Spinelli, che all'epoca del ricorso era sindaco di Castellabate, ospite della nostra emittente, critica fortemente la decisione, precisando che questa era la giusta occasione per ridare dignità alla struttura ospedaliera, anche e soprattutto in virtù dei fondi che arriveranno dall'Europa. Il Tar ha risposto che anche in ipotesi di accoglimento non è la presente sede giurisdizionale impugnataria a poter risolvere, si fatte riserve, apparendo più pertinente un'azione di stimolo alla concreta realizzazione delle misure attuative eventualmente attraverso richieste ed intimazioni alle competenti amministrazioni per il compimento di tutti i necessari adempimenti al decreto oggetto di impugnazione. Praticamente uno scaricabarile. In sostanza il Tar ha detto non è questa la sede competente, ma potete fare un'azione di intimazione, di sollecito alle amministrazioni competenti, quindi dovremmo sollecitare l'ASL che nel frattempo si è costituita, piuttosto che andare a dire come ha fatto per la scuola, aprite queste scuole, aprite oppure garantite i servizi, perché noi alla fine richiedevamo quello con questo ricorso, garantite i servizi in questo ospedale, non è questa la sede competente, quindi dovremmo noi oggi in virtù di questa sentenza compulsare le amministrazioni competente, quindi Regione e ASL per ottemperare e quindi rispettare quello che la legge prevede per un presidio ospedaliero di primo livello come l'ospedale di Agropoli. Allora voglio dire, siamo in un momento storico particolare dove la rabbia, la delusione anche rispetto a certe vicende e torno a dire anche perché credo che su questa vicenda bisognava mettere maggiore pressione, ci voleva maggiore coinvolgimento, ecco oggi ne sto parlando io ma altrimenti questa è una situazione che poteva anche passare in secondo ordine e nell'indifferenza generale, però qui ci voleva una grossa sensibilizzazione, le amministrazioni, i comitati su questo giudizio, perché quando il Tar si è trovato di fronte a una sentenza del genere, piuttosto che trovarsi la comparsa o la presenza di un comune o di un avvocato nel caso specifico, insomma era il momento anche di poter tornare e considerando il momento particolare, considerando quello che è la difficoltà che stiamo vivendo in questo momento e ci stiamo rendendo conto della difficoltà soprattutto della sanità pubblica che è puntualmente oggi in sofferenza per quello che è la situazione emergenziale che stiamo vivendo, poteva essere questo il momento, quando meno per intimare all'ASL di garantire quello che la legge dice o addirittura di rivedere il piano ospedaliero anche alla luce di quelli che sono le difficoltà. Poi è chiaro che a monte di tutto questo c'è una volontà politica che è quella di rivedere, quello di riorganizzare e di entrare nel merito. Io spero, l'ho detto, io tendenzialmente sono ottimista, sono fiducioso, oggi stiamo sentendo recovery, stiamo sentendo messo, stiamo sentendo tante risorse che saranno assegnate alla sanità e io credo che l'ospedale di Agropoli sia l'esempio plastico, calzante di come oggi noi non possiamo rinunciare alle risorse come noi oggi non possiamo rinunciare a rimettere in piedi sul nostro territorio una sanità che risponda a questo nuovo, una sanità efficace, efficiente, soprattutto la sanità pubblica.